GF VIP 7, le anticipazioni della puntata, in arrivo un temutissimo confronto. Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF VIP 7, la trentatresima. Condotta come sempre da Alfonso Signorini, con l'appoggio delle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. All'angolo social, anche questa settimana, ritroveremo l'ex Jeffina Giulia Salemi. Grazie alle anticipazioni sappiamo che questa sera verrà affrontata la tematica del triangolo amoroso tra Martina Nazoni, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Poi si parlerà del rapporto tra Ivana Merazzova e Luca Onestini, che faticano a trovare un equilibrio all'interno della casa. Ci sarà spazio anche per delle gradite sorprese, in particolar modo rivolte a Sara Altobello e Andrea Maestrelli. Attilio Romita, invece, si confronterà con la mamma di Edoardo Tavassi. Ecco il comunicato ufficiale con tutte le anticipazioni sulla trentatresima puntata del GF VIP 7. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.